Quinto turno della fase a orologio, al Flaminio arriva Trapani, siamo in compagnia di coach Mauro Zambelli. Innanzitutto coach si riparte dal super risultato, dall'impresa dell'andata. Sì, si riparte dall'impresa dell'andata sapendo che sarà una partita diversa, dobbiamo essere bravi a trovare le soluzioni giuste, magari a giocare anche con un ritmo un po' più alto, essendo sul nostro campo di gioco e avendo la spinta emotiva del pubblico, senza perdere la lucidità con cui abbiamo attaccato all'andata. Siamo stati molto bravi nel limitare le palle perse e nell'attaccare con razziocinio. Purtroppo si torna in campo con una situazione di infermeria difficile, quindi occoglierà raccogliere le energie da parte di tutti. Sì, è una situazione perdurante, è chiaro che quando affronti un'emergenza per una settimana sola di solito è una reazione, quando devi affrontare un'emergenza così a lungo diventa anche difficile tenere alta la qualità dell'allenamento. Abbiamo la fortuna di avere una squadra under 19 di ottimo livello che ci sta dando una grande mano giorno dopo giorno ad avere sedute dal tasso fisico atletico consone a quelle di 1-2. Dobbiamo, come sempre, avere un contributo buono da tanti degli elementi del roster che ci è rimasto. Nell'ultimo turno Trapani è andata a vincere, lo ha fatto con la coppia Massone-Davis e soprattutto che hanno fatto in due tantissimi punti. State studiando qualcosa in particolare su questi due giocatori? Ma manterremo le indicazioni dell'andata. È chiaro che dobbiamo considerare lo stato di forma perché vengono da una partita ad alta efficienza offensiva e dovremo essere duri dall'inizio, ma sono fiducioso nelle capacità difensive della nostra squadra che comunque anche con una rotazione ridotta nella gara d'andata fu molto attenta alle istruzioni tattiche e alle capacità specifiche dei giocatori. Non va dimenticato ovviamente il resto della squadra di Trapani, dovremo capire chi è in serata perché Mollura, Renzi sono altri giocatori che in questo campionato spesso hanno vinto partite con produzioni in doppia cifra. Occorre fare un appello, mai come questa volta direi che per raggiungere il traguardo dei play-off si deve parlare di una finale. Sì, una finale è un po' strana perché al momento potremmo andare avanti nella nostra corsa pur perdendo, c'è una casistica abbastanza remota che ci potrebbe vedere fuori anche in caso di vittoria quindi ci costringerebbe a vincere anche l'ultima gara ad Agrigento quindi dobbiamo affrontarla col massimo desiderio e lo stiamo dimostrando giorno dopo giorno vogliamo assolutamente esserci ai play-off ma non dobbiamo giocare con frenesia, con irruenza sappiamo che ci sarà una grande spinta dagli spalti ma deve essere qualcosa che non inficia quella che è l'intelligenza con cui una squadra deve affrontare una partita importante. Grazie coach Mauro Zambelli e arrivederci a domenica. Grazie a voi. Vigilia di campionato, al Flaminio arriva Trapani siamo in compagnia di Andrea Tassinari Andrea Tassinari era stato l'autentico trascinatore dell'andata per lui 20 punti in quella partita si riparte da lì, bisognerà di nuovo essere molto agguerriti. Sì, sì, sarà una partita dura adesso per quanto riguarda i nostri play-off o arrivare ai play-off sarà una partita fondamentale per noi questa a parte tutti gli altri risultati che comunque qualche incastro ci dovrà essere e niente, ripartiremo da lì abbiamo fatto un'ottima partita giocando in sei addirittura sette con Elia che giocò poco ma abbiamo fatto una partita veramente solida. Dopo come si riesce a fare un'impresa in quelle condizioni? All'ultimo avete perso anche Jets Johnson però è stata veramente quella che si può dire una ciliegina sulla torta quella partita a Trapani. Sì, secondo me quando non hai niente da perdere vedi l'attina quando è venuta da noi a cui mancavano tre giocatori importanti quando non hai nulla da perdere tutti i giocatori che magari durante l'anno hanno giocato cinque minuti in meno così ne hanno quindici in più hanno la possibilità di esprimersi e di giocare molto serenamente quindi questo secondo me è la chiave di queste partite in generale. Purtroppo avete perso dei giocatori importanti un conto è non averli per una massimo due settimane adesso il percorso sta diventando lungo come lo state affrontando in palestra? Con sorriso nel senso che sugli infortuni durante l'anno non puoi far niente specialmente questi qua quelli gravi che ti finiscono la stagione ti tengono fuori due mesi non puoi far niente quindi vanno presi il meglio possibile col sorriso e appunto abbiamo anche i giovani che ci vengono ad aiutare da un mese a questa parte che ci danno veramente una gran mano a fiato a correre e tutto quanto quindi col sorriso e con serenità vanno prese. È stato un percorso entusiasmante avete giocato per tanto tempo una palla a canestro competitiva frizzante, divertente è un po' un peccato non poterla forse giocare tutti assieme. Sì, sì, assolutamente penso che se fossimo stati al completo al momento non ci staremmo giocando all'ultime due partite l'accesso ai playoff poi parlerà il campo o avrebbe parlato il campo ecco però diciamo che sì giocarle insieme sarebbe stato meglio e più divertente. Andare ai playoff resta comunque un obiettivo penso che qualsiasi giocatore voglia esserci nella post-season. Assolutamente per me sarebbero i primi playoff di A2 l'unico anno che ho fatto l'A2 ci siamo salvati alla penultima ovvero questa partita qua più o meno ci siamo salvati senza fare playoff e playout quindi per me sarebbe importante e penso che anche per tutti i ragazzi fare i playoff sarebbe comunque vada dopo sarebbe un bel traguardo. Un sogno anche per gli stessi tifosi le statistiche che sono arrivate proprio ieri dalla Lega Nazionale Pallacanestro parlano di Rimini come prima per indice di riempimento del Palasport un commento su questi tifosi Tasso veramente incredibili. È una cosa incredibile davvero sorrido ma mi viene da sorridere perché trovare un popolo così una città così che riempie sempre il palazzetto vengono a Trapani verranno ad Agrigento è qualcosa di speciale che lega secondo me la società le persone e tutta la città insieme quindi veramente grazie e anzi invito tutti a venire domani perché sarà importante per noi appunto avere questo pubblico qua e anche di più. Grazie Andrea Tassinari e in bocca al lupo per domani. Crepi. Grazie a tutti.